Patti chiari, amicizia lunga. Questa è una delle frasi che dovremmo farci tatuare anziché quelli infinito. Quando faccio i colloqui di lavoro noi mandiamo una mail dove specifichiamo l'orario di inizio del colloquio, le 15 e 30, e che bisogna arrivare un quarto d'ora prima perché il colloquio inizierà esattamente alle 15 e 30. Puntualmente c'è sempre qualcuno che arriva in ritardo o anche semplicemente puntuale, alle 15 e 30. E la nostra regola è che a quell'ora non si entra più. Perché ho imparato che una persona che fa ritardo all'inizio molto probabilmente farà ritardo anche dopo. Una persona che si comporta in un certo modo di solito si comporta in quel modo. Quindi meglio iniziare col piede giusto. È sempre così? Assolutamente no. Ma lo è la maggior parte delle volte. Quindi ottengo due risultati. In primo luogo, di 100 persone che io faccio entrare in ritardo, 90 saranno dei ritardatari. Ne ho perse 10? Perfetto, ma ho risparmiato tempo con gli altri 90. E in secondo luogo, questo è un premio per chi invece è arrivato puntuale. E sottolinea il fatto che ogni volta bisogna arrivare puntuali. Perché le regole sono regole e non sono ammesse deroghe. Questo è importante anche nel rapporto uomo-donna. Le regole vanno date all'inizio. Vi faccio un esempio concreto. Dovevo uscire con una ragazza che a un certo punto, mentre si stavamo messaggiando, mi scrive E sai, io ho un grave problema. Sono molto ritardataria. Cosa che fra l'altro, avrete capito, a me dà un fastidio enorme. Perché è una mancanza di rispetto. E continua dicendo Sai, una volta il mio ex fidanzato mi ha dovuto aspettare più di un'ora per l'appuntamento. Al che le ho risposto semplicemente E' assurdo come alcune persone accettino certe mancanze di rispetto. E poi qualche faccina che rideva tanto per stemperare. E il risultato? Sei minuti di ritardo. Meno dei dieci minuti canonici che una ragazza dovrebbe fare quando ha un appuntamento. Patti chiari. Amicizia lunga.